Sarà celebrato a Racalmuto domani, martedì 25 aprile, il 72esimo anniversario della liberazione d'Italia dalla oppressione nazifascista. Alle ore 10, in Piazza Umberto I, si svolgerà l'evento che rievoca la resistenza partigiana. In presenza delle autorità civili, religiose e militari e degli studenti del locale Istituto Leonardo Sciascia e dell'Istituto Enrico Fermi, sede di Racalmuto. Ascoltiamo in proposito il segretario provinciale di Agrigento dell'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani, il senatore Angelo Lauricella. Quest'anno a Racalmuto c'è stata questa consuetudine iniziata dal nuovo prefetto di portarla in giro per la provincia. Quest'anno a Racalmuto è terra di partigiani, bene sono diversi che sono vissuti a lungo, due sono morti in combattimento, si chiamavano Luigi Pensillo e Scimè, un altro. Naturalmente vi è una sensibilità democratica anche perché c'è stato un certo movimento antifascista che in un certo senso nel livello culturale è rappresentato da Leonardo Sciascia e dal circolo di Caltanissetta che poi diventò un circolo anche racalmutese. La manifestazione comincia con la Santa Messa che si svolgerà alla chiesa del Monte alle nove e poi una manifestazione che parte dalle scuole elementari di Macaluso, percorre una parte del paese e arriva a Corso Umberto. Quest'anno la manifestazione ha un senso particolare per noi di Racalmuto naturalmente perché è giusto che questa sensibilità democratica si esprima con la partecipazione e dall'altra perché è il settantesimo dell'approvazione della Costituzione e poi siamo a qualche mese dal referendum istituzionale che ha conservato questa Costituzione, Costituzione che è importante e che va applicata, va naturalmente riformata, questo mi pare chiaro, naturalmente non distrutta, riformata nelle parti che richiedono una riforma. La manifestazione poi naturalmente serve anche a mantenere questo filo della memoria e questo legame con la lotta di liberazione perché poi la memoria diventa una specie di antitolo, un vaccino rispetto al ripetersi di certi mali. E oggi se qualcuno mi chiedesse cosa avrebbero fatto oggi i partigiani, io direi che avrebbero combattuto per la pace. Loro che hanno combattuto due guerre contemporanee, la seconda guerra mondiale e poi la guerra, la liberazione dal nazifascismo e per riunificare l'Italia, oggi sarebbero per la pace perché la pace è in pericolo, perché c'è il pericolo di una guerra atomica in alcune parti del mondo che coinvolgerebbe in ogni caso l'insieme del pianeta. E noi siamo per la salvezza dell'umanità, per la salvezza del pianeta e per la pace che in questi anni è stata conservata proprio dal fatto che c'è stata questa Europa, che c'è stata una Costituzione italiana che ha consentito anche questa Europa, che ci ha portato a partecipare a questa Europa. Poi combatterebbero per i diritti, per i diritti sociali, per la gioventù e vorrebbero che ci fosse un'Italia capace di autogovernarsi, di avere una capacità di riprendere la via dello sviluppo e di dare risposte ai suoi cittadini. Questo è il senso di questo 25 aprile oggi.